Partiti, è iniziata Ellas, Verona, Milan, Under 17, prima giornata di campionato. Tiene elegantemente il pallone, il numero 8 del Milan, poi non altrettanto elegantemente cerca di servire Bozzolan. Attenzione qui, pasticcio difensivo del Verona con il Milan che con Montalbano va vicino, vicino al vantaggio. Toniolo si distende, un pericolosissimo, pardon, Rossi in area di rigore, attenzione però ancora al Milan, pallone dentro, Toniolo, la ribattuta e il gol dei rossoneri. Con Rossi che è andato in tap-in a chiudere l'azione manovrata dal suo compagno Montalbano che è entrato ottimamente nell'area del Verona dal lato di destra. Colella per Dentale, cerca di sganciarsi a destra Cazzadori, servito da Dentale, ancora Cazzadori, su di lui Anut. Cerca di entrare, qui Cazzadori, Dentale con il piatto, controlla in due tempi, Nava che non blocca. È battuto ora da Foglio, anzi l'arbitro ha fermato il gioco per riprenderlo, quindi scodellare davanti al numero 4 del Milan, Anut. Attenzione ad Anut che va a calciare da fuori, tra va il palo, poi Rigo mette fuori, brivido per il Verona. Pasini a destra da Nalesso. Ecco il suo cross con il destro, Dentale si muove bene, va col piede di testa, mette giù Nava. Buona combinazione qui con cross sulla destra per Dentale. Non c'è recupero, allora il Verona non può nemmeno battere la rimessa laterale, viene fischiato alla fine del primo tempo. Lellas, Verona che si è mosso molto molto bene con Cazzadori mentre inizia il secondo tempo e Barragan aiutati da Dentale là davanti. Così dito, a sinistra lancio per Barragan che si accentra, va a calciare con il destro, la rispinta qui di Nava e poi Cazzadori. Non trova il gol. Da rivedere, diciamo così. Dentale che apre a sinistra per Barragan e Scriva che deve andare a raggiungere questo pallone prima di pensare al cross. Il pallone invece va all'indietro per Pasini che ha lo spazio per provare a calciare. Pasini va col destro. Nava con le mani senza problemi. Quello del Milan che manovra per Foglio che cerca di evitare Gomez Marquez. Accelerazione rosso-nera su Rossi che scarica a destra. Il tiro Mancino fuori. Si avvicina Nalesso al corner. Il pallone è direttamente dentro per Dentale che prende la traversa. Dietro Nalesso e Rigo. Il pallone è messo dentro per un così cansaco di testa. Il pallone è rimasto lì. Poi un miracolo di Nava. Attenzione al Verona. Il pallone è ancora vivo. Lo mette fuori Calabrese che non riesce a ricrossare. Luscetti mentre sono pronti altri due cambi per il Milan. Foglio. Si sgancia Bozzolano a sinistra. Preferisce andare da Gala. Foglio. Gala va a calciare con il destro. Traiettoria pericolosissima. Toniolo con la manona la mette in calcio d'angolo. Gomez Marquez dalla bandierina. Si avvicina a Nalesso. Battuta dentro. Pericolosa la deviazione di Cazzadori. Alta. Colella. Vediamo il pallone dentro proprio per Colella. Il pallone scorre. Poi Nalesso da fuori. La battuta pericolosa. E Nalesso. Che trova il gol dell'1-1. Tutto sommato. Guardando le azioni direi meritato per l'Ellas. Che più e più volte su punizione. Su corner. È stato pericoloso questa volta. Il gol arriva da Marco Nalesso. Da fuori dal limite dell'area. Pareggio. Uno a uno. Fischiato l'arbitro. La punizione è bassa a Toniolo. Ci arriva con le mani. E finisce qui. Come dicevamo la partita. Uno a uno fra Verona e Milan. Buona Nett Buona Nett.